Franceschi Vani con un N solo, meglio così. Sono nato a Rovigo il 4 novembre 1942, sono sempre stato a Rovigo, rimasto a Rovigo, ho fatto gli alimentari, poi la tazza media e poi sono andato a lavorare. Mi hanno messo i genitori per vedere se continuavo a studiare. Mi piaceva studiare ma non ho continuato. E' stato fallo idraulico. Però nel frattempo, anni 65, 67, 68, le confusioni che abbiamo avuto, mai confusioni nella cosa o l'altra, e come sindacato era un momento di riferimento perché sembrava proprio che non avevamo più stipendi giusti, insomma, ecco, rispetto ad altre province su questo. E allora siamo andati, io conoscevo Luigino Fresato perché abitava a Rovigo. Luigino Fresato era il segretario provinciale della FIOM e da 65 al 71 ci ha dato sempre una mano su questo. Poi ho fatto il concorso nell'ospedale civile di Rovigo, Santa Maria da Mesiricordia, nel 1972 e il 6 giugno 1962 sono stato assunto. Ho fatto un po' di di lavori, magari di dare una mano agli operatori che facevano pulizia e altre cose e poi invece attraverso una selezione sono passato e un concorso proprio ufficiale sono andato a fare, a competere l'idraulico tecnico specializzato, coordinatore. Quindi su questo ho continuato e dopo una settimana sono andato a scrivere alla CGL, per essere chiari su questo. E allora ho sempre dato una mano ai responsabili e poi dagli anni 73, 72-73, ho iniziato a fare il delegato, conoscendo le cose che succedeva nell'ospedale, i trasferimenti, una cosa o l'altra. Allora ci parlavamo sempre, per la maggior parte erano infermieri, però avevo due 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 delegati anche loro che erano due conduttori di caldaia a vapore e allora su questi siamo subito capiti al volo e poi alla fine loro avevano una certa età e mi davano una mano per essere abituato a dire cosa fare, cosa non fare. E ho sempre fatto così. Poi nel 74, nel 73-74, ho cominciato a ragionare in modo diverso su questo, di credere di più sui contratti e nel frattempo sono tutti fuori il contratto della Fenello, questa qui, ancora 1968-70 su questo. E' stato il primo contratto che me lo dava poi un collega di lavoro, un elettricista dell'ECS ospedale sanatoriale, Magdalena di Ruvigo, mi ha dato questo accordo perché il CCL non c'era. Allora su questo l'ho studiato, l'ho valutato e ogni cosa che c'era facevamo richiesta al Consiglio di Amministrazione per questi problemi. Poi però, io dico subito, sono sempre stato in ospedale io su questo, perché dopo nel 75-76 ho fatto il responsabile aziendale e quindi andavo a discutere con i consiglieri di amministrazione, con il segretario provinciale della funzione pubblica di San Giorgio. Poi nel 78 abbiamo fatto lo primo siopero provinciale. E' stata una cosa formidabile perché abbiamo trovato tanta gente convinti, sia infermieri, sia amministrativi, sia operai e dati e urbiliari. Quindi su questo abbiamo portato un problema di sicurezza abbiamo avuto da tutti e poi abbiamo avuto una certa consistenza con i contratti che abbiamo avuto con le amministrazioni e quindi capito benissimo che cambiava il mondo. Giugno 1938 era, era proprio per il contratto, per il contratto e per il sistema di organizzazione negli ospedali. Partendo sempre, noi partiamo sempre da dove vengo, dalla stazione, siamo partiti, abbiamo fatto tutto il corso del popolo, siamo ritornati e siamo andati in piazza Vittorio Emanuele di fronte al comune su questo. E' stata una cosa bellissima, un successo grande, tante persone, mi hanno accompagnato tante persone, sinceramente. Ed è stata una cosa giusta, con tanti lavoratori, ospedalieri, CGL, CISUI, tutti d'accordo su questo. E' stata una cosa stupenda, ma proprio, non lo aspettavamo, ma è stato una cosa, è stato il primo successo che aveva avuto. E poi con l'ospedale psichiatrico, invece, siamo andati avanti due anni per fare un sistema proprio di applicarlo l'ospedale psichiatrico comandale, perché si aspettava di chiuderlo. Poi nell'interno della CGL, c'era CGL comunista e CGL socialista. Io sono nato socialista, perché in casa mia erano comunisti e socialisti a girarci attorno. Io sono nato invece socialista, e ho sempre creduto su quello che è stato. Poi alla fine, lungo il nostro percorso, anche i socialisti hanno preso delle batoste che non finirono più su questo. Però per me sono stato trattato con l'idea. E voglio morire così. E' stato girarci attorno. Perché ci credo, ci credevo, ci credo, abbiamo sempre fatto le cose serie. Ogni anno c'era il nostro poesie di Fratta Polesine, c'era la commemorazione di Matteotti. Ogni 10 giugno ci eravamo a Fratta per questa commemorazione di questo grande personaggio, che è stato Matteotti. E il Polesine era molto difficile anche su questo, perché all'interno del Polesine, anni 51, era una grande alluvione. Poi sono partiti tante persone, ci hanno salutato, sono andati via 150.000 persone dal Polesine. Sono andati via. Chi a Milano, chi a Torino, chi a Cuneo, chi nel Lago Maggiore, sono andati via tante persone. E poi alla fine abbiamo trovato i momenti di poter iniziare a fare delle iniziative anche sul lavoro. E però abbiamo trovato dei momenti giusti, perché tante aziende sono venute, hanno costruito, sempre imprese, facevano le caldaie, poi nel Basso Polesie, nel Basso Polesie tante persone sono andate via. Però abbiamo trovato sempre l'accordo. In fin di conto in quel momento erano solo tanti coltivatori, agricoltori, che seguivano questa vicenda, perché ce n'era tanta gente. Poi alla fine invece si è aperto anche per l'industria. Alla fine sono stato contento lo stesso di quello che ho fatto e quello che c'è. Però devo sempre ringraziare la CGL, sinceramente. Ci credevo dagli anni 60. Però alla fine questi sono i miei risultati.